la nostra materia, ma noi dobbiamo studiare la società, la società, cioè il nostro stare insieme, no? Noi dobbiamo studiare questo, eh? Questo insieme, perché noi in questo momento siamo tutti seduti in quest'altro. E come possiamo affrontare questo argomento? Lo possiamo affrontare studiando il mondo che ci sta intorno, eh? Andando a cercare degli esempi, degli esempi sui quali noi rapportarci, esempi che in termini di questa materia che stiamo affrontando si chiamano modelli di sviluppo. Allora noi potremmo incominciare a studiare la società, il modo con il quale noi stiamo insieme attraverso, ad esempio, il modello di sviluppo, potremmo dire, facciamo un riferimento al mondo animale, al mondo, non so, come i lupi, i leoni, no? Come stanno insieme?